Joe Biden ha davanti a sé ostacoli che sembrano per certi versi insormontabili comunque una situazione davvero complessa perché questo è un paese lacerato, diviso non è solo un modo di dire un'America spaccata, lo è davvero basta andare in giro, io ho viaggiato parecchio in questi anni in particolare prima delle elezioni ho attraversato quelli che qui si chiamano i flyover states quelli che di solito si guardano dal finestrino quando si vola da San Francisco a New York o da Washington a Los Angeles il Texas più profondo, l'Oklahoma, l'Arkansas, il Tennessee, l'Arizona insomma quella parte di America rurale come dicono qui l'America più profonda, un'America che è in prevalenza soprattutto fuori dalle città a stragrande maggioranza conservatrice dove Donald Trump è riuscito a cementare in questi anni il suo sostegno Biden è vero, ha ricevuto più di 80 milioni di voti un record assoluto e Donald Trump oltre 74 milioni questo è un dato che deve farci pensare perché tra questi 74 milioni di americani che hanno riconfermato la fiducia erano 63 milioni un po' di anni fa nel 2016 quindi quasi 10 milioni di voti in più questi americani sono convinti che queste elezioni siano state rubate, siano state caratterizzate da brogli e frodi che Trump ha iniziato a denunciare ancora prima dicendo che il sistema postale non era affidabile ma come c'è un'emergenza sanitaria c'è una pandemia in corso non dovrebbe essere auspicabile evitare che le persone vadano ai seggi e votino invece per posta sistema peraltro consolidato in alcuni stati come il Colorado, lo stato di Washington sulla costa pacifica, la stessa California e invece no, Donald Trump ha minato la credibilità del sistema postale del sistema di voto e quindi ha messo in dubbio l'intera credibilità del meccanismo stesso alla base della democrazia cioè del processo elettorale ebbene una parte consistente di questi 74 milioni di americani io non so indicare un numero preciso, una percentuale non ci sono ancora dei sondaggi che ci possano aiutare a capire ma sono ragionevolmente certo che una parte consistente di questi americani crede a ogni parola che esce dalla bocca di questo presidente ed è convinta dunque che Joe Biden non sia il presidente eletto questo a mio parere è l'ostacolo principale è un danno enorme anche perché le autorità che si insedieranno il 20 gennaio cioè l'amministrazione Biden deve avere una credibilità deve dire agli americani che è necessario vaccinarsi contro il covid che la gestione della pandemia a questo punto è nelle mani di qualcun altro una parte di questi americani, le percentuali sono molto alte in questo caso ci sono dei sondaggi, degli studi che lo indicano oltre il 60% non crede che il covid sia una malattia seria non crede a questa situazione nemmeno quando muore un vicino di casa è davvero incredibile in misuri ho visto con i miei occhi in un cosi caffè in un bar dove si fa colazione al mattino anche con le salsicce e con la tazza di caffè con le uova strapazzate come sappiamo che si fa nessuno indossava la mascherina qui la mascherina è diventata una sorta di carta di identità di appartenenza politica indossi la mascherina? Sei democratico non la indossi? Sei un patriota repubblicano l'ho visto, l'ho visto in Texas mi ricordo una conversazione con la presidente del partito repubblicano nella contea di Oldham appena entrati dal New Mexico una cittadina sulla Route 66 come diremmo noi in un ristorante messicano con questa signora una signora che è un'ex insegnante che ha vissuto in Pennsylvania, in Florida quindi fuori dal suo villaggio del Texas però si capisce, si percepisce una sorta di visione del mondo che è stata plasmata visione dell'America ma anche del mondo direi plasmata da questi anni di presidenza malgrado una persona con un livello di istruzione solido, una persona che ha visto un'America al di fuori del suo villaggio qualche chilometro più là in una cittadina che si chiama Miami come la Miami della Florida ma che si trova in Texas Trump nel 2016 ha ottenuto il 95.5% dei consensi io ho fatto un viaggio in camper dal confine sud al confine nord degli Stati Uniti dall'Arizona al Wisconsin mi sono fermato in questa cittadina viaggiavo con il mio collega svizzero-francese proprio per capire i motivi profondi ma perché qui Trump ha ottenuto tutto questo consenso abbiamo parlato con un giudice un giudice della Contea che smessa la toga torna nella sua officina e fa il gommista lo abbiamo incontrato che stava sistemando delle gomme e la sua visione ancora una volta è identica appiattita su quella di Donald Trump quindi io non l'ho risentito dopo il voto ma sono sicuro potrei scommetterci che anche lui come gran parte degli elettori di questa cittadina nell'ombelico del Texas in mezzo alle mucche e alle pale eoliche promosse dall'amministrazione Obama ma siccome fanno business anche i repubblicani vendono l'energia eolica questa è una delle tante contraddizioni ma potremmo elencarne tantissime ebbene, nel mezzo del nulla del Texas c'è la convinzione che Joe Biden non sia il presidente degli Stati Uniti e allora come riconciliare? lui Biden ha parlato di healing appunto di riconciliazione di un processo di riavvicinamento di questi due lembi strappati di un'America che sembra, anzi che in alcuni casi è incapace di parlarsi ma sa soltanto gridarsi faccio due esempi al dibattito al primo dibattito presidenziale a Cleveland io per strada raccolsi la protesta dei medici che chiedevano alla politica di dare ascolto alla scienza ai medici di Cleveland che è la città per eccellenza della medicina negli Stati Uniti dentro una di queste aule universitarie c'è stato poi il confronto tra Biden e Trump prima delle elezioni il primo confronto che fu catastrofico perché Trump non fece parlare Biden dal punto di vista televisivo fu gestito male e che